Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Pugini On Air. Sono Clarissa, ma ovviamente Marco non è sparito, ma aveva altri impegni e per qualche volta sentirete la mia voce. Siamo qui oggi per darvi le ultime notizie dal mondo della musica e raccontarvi di una collaborazione davvero entusiasmante. Nel nostro viaggio nel mondo delle note e della melodie ci imbattiamo spesso in connessioni sorprendenti e incredibili. Questa volta gli artisti che ci hanno catturato l'attenzione sono due icone della scena musicale italiana, Marco Mengoni ed Elodie. Ora che l'annuncio è ufficiale, inizia il conto alla rovescia per l'uscita di quella che si preannuncia una delle hit che ci accompagnerà per tutta l'estate 2023. Elodie e Marco Mengoni stanno per rilasciare il nuovo brano che li vede collaborare per la prima volta. La canzone si intitola Pazzamusica. Una brevissima anteprima è stata svelata su TikTok. Il brano sembra il racconto a due voci di una storia d'amore dove la musica riveste un ruolo fondamentale per non sentirsi soli. I fan hanno accolto la notizia con estremo entusiasmo e non vedono l'ora di ascoltarla per intero. Elodie e Marco Mengoni canteranno quindi insieme Pazzamusica. Pazzamusica arriverà in radio e nelle piattaforme digitali il 26 maggio, in contemporanea con l'uscita di Materia, il terzo ed ultimo capitolo della trilogia di Marco Mengoni. Il cantante sta vivendo un periodo d'oro, ha trionfato al Festival di Sanremo 2023 e la vittoria gli è valsa come pass per il ritorno all'Eurovision Song Contest, dove si è imposto con un buon quarto posto. Presto tornerà in tour negli stadi. È decisamente un momento di grande successo anche per Elodie, non solo sul fronte musicale, ha portato a casa il Davide Donatello per il brano Proiettili, ma anche l'esperienza di attrice ha dato i suoi frutti. Ha fatto da protagonista nel film Ti mangio il cuore, interpretazione che le è valsa un riconoscimento al Bari International Film Festival. Tutto bene anche sul piano sentimentale, visto che la relazione con Andrea Annone prosegue a gonfie vele. Vedere insieme i nomi di due personaggi così talentuosi e amati fa pensare all'arrivo di un vero e proprio tormentone estivo. Per Stuzzi, cari fan, i due cantanti hanno annunciato la collaborazione con The Look coloratissimo e Elodie ha stupito tutti con un nuovo colore di capelli. Nella foto con cui Elodie e Marco Mengoni hanno annunciato la collaborazione, i due sfoggiano The Look diversi. Dopo gli outfit glam rock di pelle e cristalli cintillanti indossati nelle ultime occasioni importanti, qui troviamo invece Mengoni con qualcosa di molto più casual. T-shirt, camici a quadri, pantaloni di jeans scuri con strappi. Look in denim anche per Elodie, è un capo della collezione auto in inverno di The Squared. Ma ciò che colpisce di più è il nuovo air look della cantante 33enne. Al posto della lunga chioma corvina c'è un nuovo colore cassano chiaro, con due sottilissime ciocche bionde che incorniciano il viso. Nella breve clip di anticipazione di Pazza Musica invece indossa un top bianco a maniche lunghe abbinato a minigonna rosa e neon. Canotta scura e pantaloni con frange invece per il collega. Curiosi di ascoltare la canzone per intero? Chissà se sarà davvero il tormentone dell'estate. Quindi non ci resta che attendere con ansia il lancio di Pazza Musica e scoprire cosa ci riservano questi due artisti straordinari. E così cari ascoltatori vi lasciamo con l'attesa e l'eccitazione per questo nuovo brano e l'invito a continuare a seguire Radio Pugini On Air per rimanere aggiornati sulle ultime novità della musica, dell'intrattenimento e molto altro ancora. Grazie per averci ascoltato e buon ascolto su Radio Pugini On Air.